L'Italia riparte. Ho cercato il compo. Cosa vorresti vedere tu? Gli amici che tornano ad abbracciarsi come una volta, così! Persone che ridono di cuore e sono felici per Marco. Mangiare insieme del buon cibo. Vorrei ancora vedere il tifo che viene dagli spalti. Ma rispettiamo ancora le regole di comportamento. E senza cincischiare facciamoci tutti il vaccino. Il vaccino è fondamentale. Con il vaccino vinciamo insieme. Riprendiamoci il gusto del futuro.